Bentornati, in questo video vi presentiamo il volume Guida pratica al motore Stirling, autore Fabio Immovili, Giuliano Ascari e Fabio Molinari. Il volume prevede anche un cd allegato, l'editore è Libri Sandit e il costo del volume sono 17,90€. Guida pratica al motore Stirling. Grazie e vi aspettiamo per il prossimo nostro video.